Amici carissimi ben ritrovati bentornati in un nuovo video come state spero ovviamente tutto bene allora se non conoscete il canale ovviamente iscrivetevi la vostra iscrizione è importante e così non vi perdete gli altri miei video giù in descrizione tra l'altro trovate tutti i link canali telegram delle offerte e tutto quello che magari potrebbe servirvi allora ho taciuto per un bel po di tempo in realtà è giunto il momento ormai di affrontare la questione molti l'hanno affrontata non è più una questione sulla quale in realtà si può sorvolare anche perché avevo speravo che arrivasse poi una risoluzione ufficiale o comunque la questione si risolvesse ma il problema delle cpu intel ad oggi che abbiamo 31 luglio sembrerebbe ancora in alto mare per alcune situazioni quindi parliamo un attimo insieme allora qual è il problema fondamentale che cosa è successo molti lo hanno già spiegato è successo che negli ultimi mesi sempre più utenti ma non solo utenti anche le stesse software house produttrici di giochi o di programmi stanno segnalando un aumento esponenziale di problemi di stabilità e crash sui processori del tredicesimo e quattordicesimo ora quando succedono queste cose è sempre un po difficile riuscire ok a capire l'entità della 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 questione perché perché non sono tutti i processori in maniera sistematica ad avere magari ad avere problemi del genere ma è sempre comunque una quantità circoscritta voglio dire gli utenti che vanno a effettivamente ad avere su determinati modelli o su determinati processori problemi del genere quindi inizialmente voglio dire intel è stata anche un poco brava non creare voglio dire il caso comunque non far venire fuori chissà che situazione ma mano a mano che si va avanti e mano a mano che il questi problemi aumentano e sempre più processori si parla di milioni di processori inizia ad essere afflitti da questi problemi di instabilità la cosa ovviamente non può essere più diciamo taciuta nel senso che la stessa intel poi è dovuta intervenire con delle comunicazioni ufficiali qual è il problema cosa diciamo fa in modo che questi processori ad un certo punto iniziano a causare problemi al 99 per cento secondo sia alcune indagini di intel ma anche tanti ok colleghi e persone che in questo momento nel mondo tech stanno cercando di indagare sembrerebbe che le tensioni alte ovviamente dei processori perché voi sapete benissimo che noi abbiamo processori come il 14900k che voglio dire toccano e superano i 300 watt con le impostazioni di multicore enhancement con le impostazioni di overclock automatico delle schede madri abbiamo il 14600k ad esempio che un processore che tocca e supera i 180 watt quindi qual è stata diciamo probabilmente qual è il problema che le tensioni questo gestire ok i processori intel in questo modo sulle schede madri quindi dando questi voltaggi e cercando di tirarli all'ennesima potenza probabilmente in concomitanza con qualche imperfezione nell'architettura o nel processo produttivo causa un deterioramento ok del silicio ok si è parlato di ossidazione o comunque di problemi proprio fisici nel processore che può ad un certo punto iniziare a dare problemi e cresciare in maniera sistema sistematica il problema qual è che sembrerebbe che questi danni dovuti a queste tensioni allo stress che i processori subiscono sulle schede madri questi danni sembrano irreversibili cioè nel momento in cui dopo tre quattro cinque sei mesi di utilizzo un processore che è affetto da questa problematica inizia a deteriorarsi succede che presente il problema e adesso capite anche il perché questo fenomeno in realtà è in aumento perché perché più tempo passa dall'uscita di questi processori più le cpu voglio dire accumulano lavoro cioè si deteriorano col tempo e più vengono fuori i processori possibilmente fallati e questa è una cosa non dico grave nel senso diciamo dal punto di vista voglio dire della dell'elettronica perché a volte può capitare ok che ci possono essere dei problemi su un nodo produttivo dei problemi su un'architettura è grave semplicemente perché perché praticamente gli utenti in questo momento sono in balia del della più diciamo oscura oscuro destino perché intel effettivamente uscita fuori con delle sue indagini e delle sue anche dei suoi report dove semplicemente dice sì può essere che qualche processore ha avuto qualche problema con l'ossidazione ma non è quello il problema noi per metà di agosto rilasceremo un microcode rilasceremo un aggiornamento bios che risolverà probabilmente questi problemi di stabilità secondo me questa è una cazzata atomica perché se fosse realmente solo un problema di aggiornare un microcode capite che intel cioè con i suoi mezzi e con l'azienda che rappresenta appena si fosse venuta a sapere una cosa del genere sarebbe uscita probabilmente due giorni dopo con un microcode aggiornato questa cosa in generale fa un po rabbia allora fa un po rabbia perché perché quante volte noi su questo canale o comunque in generale abbiamo tirato fuori abbiamo messo in mezzo sempre e comunque la questione dell'efficienza dei processori intel allora noi siamo sempre stati abituati a vedere intel come giustamente dei processori che sono molto potenti consumano tanto però noi siamo sempre stati diciamo i primi ok a mettere in evidenza che un sistema ok una piattaforma che è stata per esempio lga 1700 ma anche in precedenza con dei processori che tirano 300 350 watt su una scheda madre per quanto le schede per lavorare in quel modo è comunque una cosa che prima o poi avrebbe comunque creato dei problemi lo crea già il fatto di dover gestire ok sotto a magari un dissipatore o all'interno di un case un processore che consuma così tanto questa cosa diciamo è un po emblematica va bene perché sta proprio a significare secondo me come la tecnologia attualmente intel dietro ad una serie di architetture tra cui ovviamente l'architettura di 13esima e 14esima gen è una tecnologia che in questo momento ha raggiunto veramente il limite cioè intel ha toccato secondo me il limite di tutto perché attirato talmente questi processori ha cercato in questi anni di combattere di rincorrere la concorrenza andando a creare dei mostri da 350 watt come il 14900k con tutti i limiti alla fine di quelle che sono state le scelte dell'azienda cioè di andare a mettere le mani ovunque cercare di fare quanto più possibile ok nuovi processori mobile nuovi processori desktop nuove gpu cercare di fare ok di inseguire un po ovunque la concorrenza senza però risolvere e avere una tecnologia secondo me migliore un'architettura ecco più che tecnologia direi un'architettura o comunque qualcosa che potesse di fatto rappresentare una giusta controparte rispetto ai processori AMD che consumano un terzo dei processori intel quindi a me dispiace a parte che per proprio il discorso economico e per il discorso in generale che oggi acquistare un processore intel secondo me è una cosa stupida cioè con un LGA 1700 a fine vita e con tutto sto macello che è successo cioè andare oggi su un intel a meno che voi non troviate un dico un 12700k o un 12600k a quattro soldi parliamoci chiaramente io la vedo una cosa completamente diciamo sbagliata anche perché comunque voglio dire il rischio di beccarsi una cpu fallata comunque il rischio di avere problemi c'è noi abbiamo una piattaforma AMD con dei costi nettamente inferiori che in questo momento va benissimo e con processori come 7800 x3d o anche il 7600 voglio dire sono dei sono delle piattaforme sicuramente più indicate in questo momento e io lo so che molti di voi a questa cosa cioè probabilmente non ci danno peso perché chi è abituato da anni ok ad utilizzare intel chi magari ha sempre avuto intel chi magari ha vissuto nei momenti d'oro ok di intel 15 20 anni fa quando i processori di AMD non esistevano proprio cioè quando AMD era semplicemente l'alternativa economica per creare dei pc a basso costo io capisco che magari non ci danno tanto peso oppure che magari possono dire vabbè ma non a tutti sono solo alcuni processori e il mio processore va bene io per esempio c'ho un 14600k che per adesso problemi non me ne sta dando però ciò non vuol dire che il fenomeno in realtà è un fenomeno secondo me grave nel senso che si dovrebbe cercare di arginare non con un semplice aggiornamento BIOS e abbassare le tensioni cioè qui andrebbero praticamente è impossibile perché intel non lo farà mai ma effettivamente andrebbe visto per bene e valutato magari un rientro di questi processori cosa che intel già ha confermato che non farà quindi anche qui chi ha avuto un processore fallato si è danneggiato e praticamente in maniera irreversibile resta col processore in mano senza poter fare niente al massimo può semplicemente downclockare cioè va ad undervoltare downclockare il processore sperando che non gli dia problemi e questo secondo me non è una bella mossa non è una bella cosa per intel in ogni caso fatemi sapere voi che cosa ne pensate ovviamente noi seguiremo la vicenda e per adesso diciamo piattaforma intel io ve la sconsiglio proprio in maniera viva più assoluta vi dico non vi comprate gli intel o comunque cercate di limitare a processori che notoriamente magari non sono afflitti da queste problematiche ok grazie mille per essere stati qui con me noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi